Nuova sconfitta per le ragazze di Emiliano Testini che soccombo Laterni con il punteggio di 4 a 2, troppo più forte la formazione locale che ha approfittato anche di alcune incertezze della fase difensiva della squadra retina che soccombe al quintagesimo con la Labate. Il raddoppio della Vigliucci, il primo tempo si chiude con la terza rete firmata dalla Spiri Donidu. La stessa attaccante in apertura di ripresa apre il poker dopo un delizioso assist della Tarantino. La formazione Amaranto cerca di riversarsi nell'area delle Umbre anche se la situazione è compromessa. Al ventottesimo prima e poi al trentatresimo la razzolinea la soddisfazione di firmare una bella doppietta. Da notare anche l'espulsione della Soro, l'Arezzo ha concluso con un giocatore in meno. Grazie a tutti.